Floating Mobile Hospital è il progetto di un ospedale galleggiante mobile che dovrebbe assistere i malati dei più sperduti villaggi africani nella regione dei Grandi Lani della Rift Valley tra Kenya, Uganda e Tanzania. Nel progetto del professore Gentilini, il Bartello, dotato di attrezzature mediche, dovrebbe offrire un servizio di pronto soccorso e di trasporto dei malati nelle strutture sanitarie più vicine. E' attrezzato con lo scafo tipo catamarano con quattro ambienti sanitari, uno per l'accoglienza del malato, uno per le indagini, il terzo per la sala operatoria ai gessi e il quarto per la sala parto dell'assistenza al neonato. Ci sarà anche una struttura destinata alla formazione sia in sede che a distanza con il supporto della telemedicina. Dunque anche un sistema di telemedicina per aiutare e formare i medici africani che hanno grandi difficoltà a prestare la propria opera, anche perché spesso non ricevono aiuti dai rispettivi governi. Il professore Gentilini opera concretamente nel cuore di questo continente. Questa iniziativa merita una grande solidarietà da parte di tutti. Dunque un'opportunità di incontro tra popolazioni divise e spesso in lotta tra loro in un progetto che si propone soprattutto come luogo in cui culture diverse si incontrano, dialogano e collaborano in nome dell'uomo. Cusci di Chisciana, che in lingua sua idi vuol dire cooperazione, e l'augurio che ci facciamo io personalmente, i miei colleghi italiani...